Ben trovati cari amici, è una giornata particolare questa, siamo in diretta dal Consiglio della Regione Lombardia e come molti di voi sapranno quest'oggi è arrivata una notizia, ovvero un avviso di garanzia per un presunto episodio di corruzione a carico del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, il leghista Davide Boni. E avevamo già programmato questo appuntamento con un membro dell'Ufficio di Presidenza, il segretario del Consiglio regionale, Carlo Speafico. Ben trovato Carlo e grazie per essere qui con noi. Sì, grazie a tutti. Come diceva Fabio, Pizzol è una giornata dal punto di vista istituzionale triste alla fine perché quando capitano episodi di questo genere, tra l'altro quando capitano ripetutamente come è successo nel caso di Ragione Lombardia, e in particolare colpendo l'Ufficio di Presidenza della Terza Assemblea Legislativa Italiana, il primo Parlamento Europeo e scusate europeo abbiamo esagerato. No, è delle regioni italiane. Ecco, diciamo delle regioni italiane, che mi scusa del qui però qua. è chiaro che non può che essere una giornata triste, evidentemente vuol dire che questa istituzione è malata. Questa istituzione è malata e non è malata dall'interno, nel senso che è un'istituzione inutile, che è un'istituzione... No, è un'istituzione che probabilmente presenta un difetto, che è quello della scarsa mobilità, della dominanza a colore unico, parlo di colore politico per troppi anni, che abitua e ingenera sicuramente un habitat più difficile da controllare. Io credo che sia questa una delle ragioni principali. Ecco, tra l'altro, lo sottolineavi anche tu Carlo, che non è la prima vicenda giudiziaria che va a toccare l'Ufficio di Presidenza, visto che oggi campeggiava su vari siti online proprio la foto dell'Ufficio di Presidenza originario in cui sei l'unico superstite. Sì, sono l'unico superstite non indagato. Oggi è stato da parte degli amici giornalisti che normalmente seguono i lavori del Consiglio e quelli che normalmente non lo seguono, ma che si sono catapultati qui ovviamente quando ci sono notizie di questa natura, che facevano notare questo particolare, ah sei l'unico che è rimasto, eccetera. Io con una battuta mi difendo abbastanza facilmente, dicendo che vuol dire che io non conto proprio niente e quindi sostanzialmente non corro il rischio di essere inquisito, perché se non conti niente, in realtà questa è una battuta un po' triste, ma è una battuta. In realtà credo che le vicende che hanno coinvolto l'Ufficio di Presidenza, va detto, primo, che sono tutte riguardanti i fatti che sono stati consumati, severi, severi, fuori dall'Ufficio di Presidenza, cioè antecedentemente non riguardano attività dell'Ufficio di Presidenza. Secondo, che ognuno ha la sua storia personale e risponde di quella, come giusto che sia, ogni uomo e ogni donna è differente per fortuna e quindi ovviamente è differente per tutto. E quindi io auguro ovviamente a questi ex colleghi dell'Ufficio di Presidenza di poter dimostrare la loro estremità ai fatti. Certo è che il danno sull'istituzione e sull'Ufficio di Presidenza è enorme. Ecco, parlavamo di ex, in realtà il Presidente Davide Boni, e bisogna ancora definirlo Presidente, perché al momento non c'è stato nessun atto formale se non una richiesta in aula, quest'oggi da parte delle opposizioni PD in testa, di dimissioni da parte del Presidente Boni, cosa che per adesso però non è ancora avvenuta. Quindi a tutti gli effetti anche la seduta in corso oggi è presieduta da Boni, anche se fisicamente non è in aula. Esattamente così, Boni non è in aula da questa mattina, perché evidentemente è stato raggiunto da questo avviso di garanzia, a cui seguono tutta una serie di atti, compreso a quanto pare anche la perquisizione dei luoghi ritenuti possibili, sedi dove trovare il materiale, e la seduta è andata avanti presieduta legittimamente, due vicepresidenti, per cui il Consiglio regionale è in questo momento nei suoi pieni poteri. Guardate, questa è una cosa importante, perché il Consiglio regionale è un'assemblea legislativa, lo ricordavo prima, il primo Parlamento regionale italiano, la terza assemblea legislativa, non può essere un'assemblea che sospende la sua attività, non è un consiglio amministrativo come lo è uno comunale, uno che sono importanti, ma un'attività legislativa, oggi c'è in discussione una legge importante, il cosiddetto piano casa, noi voteremo contro, una legge che non ci convince, fatta male, rischiosa, che apre inutili spazi, che possono essere anche oggetto di valutazioni sbagliate sull'uso dell'urbanistica, ma l'assemblea è comunque legalmente e legittimamente costituita. Il problema dove sta? Che in questa situazione, intanto noi abbiamo chiesto come gruppo del PD, insieme alle opposizioni, come tu ricordavi, che boni dia le dimissioni, lo abbiamo fatto, a dire la verità, anche quando le vicende hanno riguardato Filippo Penati, vicepresidente del Consiglio, lo abbiamo fatto ancora prima, quando riguardavano molto prima dell'arresto il mio collega segretario Ponzoni e poi ovviamente con Nicoli. Qui siamo in presenza di un'indagine avviata, quindi di un'avviso di garanzia, però credo che sia molto difficile, che una persona che si trova nella posizione di Boni, cioè la posizione di Boni è quella di garante del Consiglio, cioè di un'assemblea dove ci sono tutte le forze politiche e quindi in un certo senso un incarico ancora più delicato dal punto di vista dell'equilibrio rispetto a quello del Presidente della Giunta, che certamente dispone di più potere, ma bisogna di garantire la sua maggioranza, la maggioranza che ha vinto l'elezione. Qui bisogna garantire tutte le forze politiche, è evidente che in una situazione di questo genere non può che essere una garanzia che deve dare qualcun'altro, per cui noi abbiamo chiesto che si provveda il più rapidamente possibile alla sua sostituzione e penso che debba avvenire così, perché differentemente si perpetuerebbe per qualche tempo, per qualche settimana una situazione che seppur legittima, perché i due vice presidenti possono governare e gestire l'assemblea di evidente anomalia. Queste vicende inducono anche a riflettere sui regolamenti, sullo stato del diritto costituzionale e del ruolo delle istituzioni, perché si scopre come un'assemblea, noi siamo oggi appunto lì a discutere del piano casa, però quando viene decapitata in questa maniera è evidente che si trova in uno stato di profondissimo disagio e tant'è che noi, per ragioni di buonsenso, non di polemica politica, abbiamo proposto che la seduta di oggi venisse aggiornata martedì prossimo, perché discutere di un'importante legge come il piano casa. Quando hai tutto l'apparato mediatico giustamente interessato a sapere cosa succede sulla vicenda Boni, questa legge passa in terza, quarta, quinta fila ed è un peccato perché ci ha lavorato per l'importanza che ha anche per far capire i difetti che la legge ha e che noi siamo impegnati nel dibattito a far capire quello. Tra l'altro c'è anche una sorta di ironia, se così possiamo definirla della sorte, perché i fatti che vengono addebitati, chiaramente ancora tutti da chiarire a Boni, riguarderebbero il comune di Cassano D'Adda e proprio una concessione di lizia riguardo il piano di governo del territorio, quindi quasi una beffa anche per quanto riguarda il tipo di discussione che c'è quest'oggi in aula. Carlo, volevo sollecitarti su un altro aspetto. Se andiamo a vedere gli ex membri dell'ufficio di presidenza e l'attuale membro indagato, tolto Filippo Penati, sono delle vecchie conoscenze, tra virgolette, diciamo così, perché Ponzoni, Nicoli Cristiani e Boni, tutti e tre, hanno fatto parte della giunta Formigoni. Anche questo politicamente, dal punto di vista giudiziario è un altro paio di maniche, ma dal punto di vista politico è un fatto tutt'altro che irrilevante. Sì, esattamente così come dici tu. Non a caso, prima facevo quella battuta che la lunga occupazione del potere da parte dello stesso o della stessa alleanza, dello stesso colore politico, induce al netto della serietà delle persone, della loro onestà personale, indubbiamente a progressivamente occupare tutti gli spazi possibili di potere che sono consentiti. Ora, questo non è detto che automaticamente avvenga nella illegalità, però sicuramente produce uno scadimento della tensione, perché c'è una assoeffazione. Ovviamente a sua volta l'opposizione, quando è un'opposizione che sta appunto all'opposizione per tanti anni, di solito non diventa più aguerrita, diventa più debole, più difficile, perché è quello che noi proviamo, essendo la quarta legislatura con questa maggioranza. Io credo che il fatto che siano come giustamente tu ricordavi tre ex assessori, che sempre ripeto che i fatti siano quelli che devono essere accertati, che gli vengono imputati e che io spero che loro possano dimostrare di essere strani, però riguardano o la passata attività di assessore o comunque, diciamo così, il prestigio, la conoscenza e la competenza acquisita nello svolgimento dell'incarico di assessore. Ma non può che essere così, perché evidentemente non può che essere così nel senso, voglio precisare l'affermazione per evitare qui, non può che essere così, nel senso che riguarda ovviamente l'esercizio di poteri edifici, io prima faccio una battuta, se tu non conti niente, è più facile sicuramente non essere intaccato da vicende, però è chiaro che con più si è nella stanza dei bottoni, con meno vengono, con più vengono a mancare i contrappesi. E qui vi è in fuori un altro discorso, oltre a quello della lunga occupazione del potere, quarta legislatura per Formigoni e suoi alleati in questa compagine o similare, che è questo errore clamoroso di avere prodotto dei sistemi presidenzialistici che non hanno pari nel mondo. Il sistema regionale non è paragonabile a quello del Comune o della Provincia, dove si fanno atti amministrativi, qui si fanno leggi e questa è un'assemblea legislativa unica al mondo nel sistema italiano, perché tutte le regioni sono così mica, solo quella Lombarda, anche quella dove va nel centro-sinistra, dove c'è un potere assoluto non controbilanciato da parte di chi vince le elezioni. Abbiamo un paio di sollecitazioni che ci arrivano da chi ci sta ascoltando da casa, come avete visto su Blogdem c'è la possibilità di intervenire in chat. Mirko scrive, condivido la proposta di portare la Lombardia al voto e da vice sindaco di un medio piccolo comune temo l'approvazione di un nuovo, inutile e dannoso piano casa. Poi c'è un altro commento, 4 su 5 indagati arrestati, ma quando si va finalmente ad elezioni? Quindi entrambi invocano il voto e poi c'è un commento molto preoccupato sul piano casa. Carlo? Noi la proposta di andare alle elezioni rapidamente l'abbiamo fatta già quando sono avvenuti i fatti di Nicoli Cristiani e di Ponzoni, perché è evidente che anche se Formigoni si è difeso dicendo che questi non sono miei assessori, è evidente che una contiguità c'è. Per cui istituzioni importanti come la Lombardia, in un territorio ricco anche di valori, di operosità, di eccellenze, può, questa è la domanda che bisogna farci senza aggiungere polemica o asti o politico, la domanda è la seguente, può un'istituzione di questo peso, di questa importanza anche per il panorama italiano e internazionale in Europa, mi riferisco a livello internazionale europeo, essere, come dire, degradata da questo punto di vista, essere poco credibile? No, noi abbiamo detto a questo punto è meglio andare alle elezioni, non abbiamo fatto calcoli politici, non è che abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo visto che vincevamo e abbiamo deciso di proporre, no, non lo so sinceramente, anzi credo che se dovessimo fare un'operazione di quella natura, cioè di verificare cosa pensano nel Lombardi, io penso che Formigoni abbia ancora un bel seguito, non illudiamoci, non stiamo facendo questo ragionamento delle elezioni perché noi ci sentiamo vincitori, credo che sia iniziato definitivamente il declino di Formigoni, questo sì, però bisogna lavorare per costruire un'alternativa credibile che si faccia vedere, che la gente capisca che per ora non c'è e noi stiamo lavorando per questo, essendo il principale partito dell'opposizione. Il vice sindaco che diceva quelle cose c'è perfettamente ragione, il piano che io presumo, visto che non siamo riusciti a rinviare la cosa la settimana prossima, verrà approvato con i soli voti della maggioranza, è un piano che presenta grossi elementi oscuri, nato per essere un piano di sostegno un housing sociale, cioè la diffusione, costruzione, realizzazione di case a basso costo per un mercato calmierato, giovani copie, anziani, eccetera, eccetera, si trasforma nell'ennesima manomissione della legge sulla urbanistica, creando degli ulteriori equivoci, dei contenziosi, degli elementi di cambiamento continuo a chi deve amministrare i comuni, riducendo il potere dei comuni di intervenire sui propri patrimoni edilizi perché alcune liberalizzazioni vengono fatte nella legge, alcune sui sottotetti per esempio, alcune nel campo della costruzione di box sotterranei. L'housing sociale viene ridimensionato, molto potere sulla sua realizzazione viene rinviato a dati dirigenziali che farà la giunta da sola, alla fine di questo percorso credo che i comuni si troveranno con minori competenze, un maggiore accentramento da parte di Regione Lombardia, qualche liberalità di più e di troppo pericolosa e qualche settore, qualche comparto, qualche branca del settore edilizio che potrebbe teoricamente guadagnare. Noi contestiamo questo uso della legge, mentre invece avrebbe potuto essere una grande occasione per dare una mano al rilancio dell'edilizia che è in crisi. Invece in questa maniera, un esempio per tutti, che senso ha consentire nel settore alberghiero di recuperare un piano fino a 4 metri, alzandosi fino a 4 metri? L'importante è che i progetti siano deliberati entro il 30 di aprile, è chiaramente una presa in giro oppure è un tentativo per dire facciamo il 30 di aprile, poi dopo arriviamo e scopriamo che non se n'è fatto niente o quasi perché o uno il progetto ce l'ha già lì oppure se no non fa tempo di farlo e a quel punto lì si chiede una proroga poi se ne fa un'altra eccetera. È esattamente il contrario di quello che serve per rilanciare il settore edilizio che ha bisogno di stabilità, che ha bisogno di tranquillità, che ha bisogno di potersi presentare come un settore che si assesta, magari riduce un po' la propria dinamicità ma quella che gli resta diventa stabile e diventa credibile anche presso il sistema creditizio. Tra l'altro il paradosso è che è una normativa che arriva anche in ritardo e per di più anche piuttosto discutibile perché è una normativa che segue a dei provvedimenti del governo di inizio novembre che avrebbero dovuto vedere un intervento da parte delle regioni entro il 30 novembre. Siamo a marzo e ci arriviamo quindi con grande ritardo e per di più con tutte queste problematicità. C'è Minni che da casa ci scrive Pensare ora ad un presidente di garanzia delle minoranze potrebbe essere una soluzione? Vabbè io farei la svelta, io e te facciamo la svelta e rispondere. Sicuramente sì, ma al di là della battuta io non credo che andrà a finire così credo che per logiche di accordo politico andrà a finire ancora che della Lega era buono e della Lega sarà il futuro presidente non mi aspetto queste cose però la domanda esprime una... è tutt'altro che banale è tutt'altro che banale perché se noi fossimo un paese normale a quella domanda la risposta sembra automaticamente certo che sarà così perché sarebbe la testimonianza di una istituzione matura di una democrazia molto più sviluppata e matura della nostra che di fronte a un problema che vero o falso che sia poi sarà accertato per togliersi di dosso qualunque tipo di sospetto dice all'altra parte politica io questo ragionamento lo faccio anche se fosse uno dei nostri cioè bisognerebbe fare invece noi non siamo in queste condizioni i regolamenti nel caso specifico la regola è fissata dallo statuto in sostanza il presidente aspetta la maggioranza un vicepresidente e un segretario aspettano la minoranza e tu non vai al di là di quello e questo è uno dei limiti che ha il nostro sistema democratico quando prima facciamo l'esempio del presidenzialismo di Formigoni come di altri presidenti in un paese e in una democrazia normale non ci sarebbe un presidente che eletto dal popolo come è il presidente della regione Lombardia può tranquillamente ignorare il volere del proprio consiglio perché il consiglio è succube del presidente il quale nel momento in cui decidesse di dimettersi Formigoni è stato un passo già due volte quando è stato eletto in Parlamento in ben due occasioni nel 2006 e nel 2008 trascina alla paralisi il primo Parlamento regionale italiano quindi siamo in questo paradosso mentre invece per fare un esempio noto a tutti che riguarda possiamo pigliare gli americani che sono in questo momento impegnati nelle primarie per la corsa alla presidenza a novembre il presidente degli Stati Uniti viene eletto appunto con il voto il 4 di novembre no le camere le due camere vengono elette in un altro momento sta a significare che il presidente è investito di un potere preciso e le camere sono investite del potere di dialogare, contrastare, collaborare con il presidente qui invece il presidente decide la vita e la morte del consiglio per cui la domanda purtroppo è molto seria e la risposta è in questo momento un po' deludente perché la questione travalica e va ben oltre la questione di chi sostituirà Boni perché a sostituirlo sarà un uomo dello stesso partito o una donna o una donna dello stesso partito tra l'altro quanto diceva Carlos Preafico poco fa è confermato anche per la vicenda americana se ci pensate da tutte le difficoltà che ha avuto il presidente Barack Obama in teoria l'uomo più potente del mondo con la gestione della crisi economica e anche con la riforma del servizio sanitario lì se le camere si mettono di traverso c'è davvero poco da fare qui invece la realtà è un pochettino diversa io a questo punto ribadendo le due richieste di fatto che dopo la giornata di oggi arrivano dal partito democratico e che Carlos Preafico ha declinato primo dimissioni del presidente Boni dal suo ruolo di presidente del consiglio regionale dimissioni immediate per poter andare alla sua sostituzione e al funzionamento fisiologicamente normale dell'ufficio di presidenza secondo tentare di capire come ridare la parola ai cittadini nel più breve tempo possibile qui in Lombardia ecco ribadite queste due richieste io Carlo dedicherei gli ultimi 5-6 minuti invece a un altro aspetto dell'attività di questo consiglio che ci riporta indietro di una settimana perché tu hai avuto la delega per i rapporti con l'Unione Europea quindi con l'Europa da parte del consiglio regionale e c'è stata una missione proprio la settimana scorsa a Bruxelles che mi è parsa particolarmente significativa proviamo a spiegare il perché allora sì io intanto ho la delega dell'ufficio di presidenza per i rapporti con l'Unione Europea perché con il nuovo statuto approvato alla fine della passata quasi alla fine della passata legislatura dopo una lunga cherela un lungo braccio di ferro anche con la giunta siamo riusciti ad affermare una competenza del consiglio sulle tematiche dell'Unione in particolare internazionale riferita all'Unione Europea questo è stato possibile anche grazie al fatto che nel frattempo l'accordo di Lisbona ha previsto a livello europeo un coinvolgimento sempre più elevato nei processi decisionali che portano poi alle risoluzioni degli stati membri e delle regioni questi sono i protagonisti devono essere i protagonisti delle decisioni i cittadini sottovaluta non sanno non sono bene informati su come oggi funziona il sistema legislativo che li coinvolge o che certe volte li travolge all'incirca tre quarti dei provvedimenti che riguardano la vita dei singoli stati ormai vengono assunti a Bruxelles si tratta di risoluzioni non di leggi costruite con un processo ascensionale molto complicato bisogna mettere d'accordo 27 paesi noi provate a fare un'assemblea condominiale è complicatissimo metterci d'accordo in un'assemblea condominiale figurati 27 paesi lingue diverse tradizioni interessi è una cosa che quando tu arrivi dopo mesi e mesi di faticosa trattativa scrivere qualche cosa quello basta non lo sposti più non c'è quindi si arriva in aula blindati perché l'accordo viene fatto prima dove devi posizionarti tu con la tua istituzione regionale o nazionale nel momento in cui si forma la decisione perché se no la subirai e tre quarti dei provvedimenti legislativi delle risoluzioni poi vengono trasformati in provvedimenti legislativi degli stati membri se non lo fai la Unione Europea ti sanziona ti multa come fa a multarti molto semplice è come se noi parcheggiamo in divieto di sosta oppure per eccesso di velocità il multaverio ci pizzica e ci trattengono direttamente la multa dallo stipendio la Unione Europea noi la paghiamo nel senso che abbiamo una percentuale del nostro PIL che viene versata direttamente per alimentare il bilancio dell'Unione Europea quando viene accertato un'infrazione gli viene dato un peso dopo trattative nelle varie sedi giudiziarie dell'Unione Europea poi alla fine dicono bene questo che hai fatto era sbagliato la punizione tot come facciamo? te la togliamo dai trasferimenti per cui trasferimento automatico quindi l'importanza che la regione Lombardia dedica all'Unione Europea è sicuramente superiore a quella delle altre regioni però nonostante questo noi non riusciamo a utilizzare al 100% i finanziamenti che ci aspettano in un periodo in cui tutti gli enti locali le imprese si lamentano che mancano soldi guardate l'assurdo è che noi che siamo i più efficienti in Italia arriviamo a utilizzare circa l'80% di quello che ci spetta il che vuol dire che lasciamo dei soldi che poi vengono distribuiti ad altri paesi dare attenzione a tutto questo da parte di Regione Lombardia e del Consiglio significa affiancare la Giunta queste cose la Giunta le ha sempre fatte e le ha sempre fatte con la logica del potere esecutivo consiglieri e Consiglio erano fuori lo Statuto ci ha consentito questo lo abbiamo fatto io questa delega siamo stati a Bruxelles dove abbiamo incontrato i nostri parlamentari del Nord-Est abbiamo fatto presente i nostri problemi principali quelli su quali noi vorremmo che nelle trattative che si fanno vengano tenuti particolarmente in considerazione inoltre stiamo lavorando sto lavorando anche con credo un po' di successo nel far conoscere in tutte le province della Regione l'attività che noi facciamo a Bruxelles dove c'è un ufficio si chiama Casa Lombardia ho portato a casa un accordo con la Giunta regionale per avere lì uno spazio a disposizione delle commissioni consigliari ma anche dei singoli consiglieri perché noi dobbiamo abituarci a trasferire molte delle attività che prima erano a Roma vado a Roma perché c'è un problema c'è una pratica a Roma vado a parlare col parlamentare a Roma tutto questo è diventato meno importante bisogna trasferirlo su Bruxelles bene abbiamo concluso con lo spazio a nostra disposizione è una mezz'oretta in cui abbiamo condensato la notizia di oggi ovvero l'avviso di garanzia che ha raggiunto il Presidente Boni di cui si chiedono le dimissioni da parte di tutta l'opposizione in particolare del Partito Democratico abbiamo accennato anche l'importanza di questa dimensione europea sulla quale comunque avremo occasione di tornare io ringrazio Carlo Speafico consigliere dell'ufficio di presidenza del Consiglio di Regione Lombardia avremo occasione di tornare appunto su queste altre tematiche ringrazio anche voi vi ricordo che magari per chi si è collegato solo a un certo punto di questa nostra chiacchierata è possibile rivederla tra breve sempre su Blogdem anche nei prossimi giorni grazie e alla prossima